GERMINIO Grande giocata del capitano per Pianiccio centrale, attenzione a Germinio che può andare a concludere, Germinio, Germinio che ha inciamori! Germinio che ha inciamori! Con il sinistro Germinio! GERMINIO Ancora il Napoli, attenzione a questa opportunità per il Napoli, regolare la posizione di Pande, per Pande, per Pande, per De Santis! Eh sì! Una salva! E come un gol quello di Daniele! Attenzione invece al Napoli in avanti, attenzione pericolosa, questa opportunità per il Napoli, palo! GERMINIO Reina sistema con grande cura su Aparela, questa è l'ultima azione del primo tempo perché siamo esattamente al 48esimo, è pronto, Mirale, immagina le GOR! 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 FINAL! GOR! 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 LUNCIRE! Mi sembrava che l'avessi già vista questa posizione, ha un piede magico questo ragazzo, una sensibilità! Pianic Quasi posizione di sparo Poi pallone largo per Alessandro Florenzi Che pensa alle cross Un'ottima cross Attenzione Calcio di rigore per la Roma Calcio di rigore per la Roma Sicuro e spuzzo Pagliacciallo per Cannavaro E' pronto il bosniaco Contro Reina Pianic La conclusione Ruta 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 Il conto di Roma Combina la Pianic Batte anche il Napoli 2 a 0 Prosegue la marcia Inarrestabile Della Roma Di Rudy Garcia Pianic 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 Perla Pianic Pianic Di Pianic Grazie a tutti